I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri, in base al DMC numero 145 del 203 2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è bonca e la gioia è tanta e poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. Bella casa dei numeri Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu casalotto in tv Ye 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 Ma buongiorno buona mattinata amici di casalotto come state? Come state? Beh io mi auguro ovviamente bene anche se con questo tempo un po' caldo un po' freddo un po' pioggia poi ritorna poi il sole insomma io ho un po' di amici che sono acciaccati speriamo bene comunque che state tutti bene soprattutto bisogna essere belli carichi e positivi perché oggi è martedì sapete che quando c'è il martedì alle ore 20 ritorniamo sempre qua su 7 Gold ma puntuali per vivere con voi in diretta una puntata molto speciale speriamo fortunata decima estrazione alle ore 20 questa sera quindi due appuntamenti ancora da non perdere questo di stamattina e poi quello del pomeriggio e infine tutti pronti con i cittadini alla mano e allora vado subito a dare il buongiorno di questo martedì mattina al nostro grande mitico Lio ciao buongiorno ciao Sheila ben ritrovata buona martedì mattina a te buona martedì mattina a tutti coloro che stanno seguendo questa nuova diretta estremamente importante perché come Sheila ha ricordato oggi siamo in piena giornata di estrazione di conseguenza ci sono delle possibilità assolutamente imperdibili per il concorso di quest'oggi e attenzione perché già ieri abbiamo parlato dell'estrazione di quest'oggi estremamente importante perché siamo arrivati ad un punto statistico veramente favorevole per quanto riguarda determinate tracce per quanto riguarda anche le tracce classiche di Lio e di Marco di conseguenza io tra breve andrò in redazione proprio per valutare con voi il primo portale ma nel frattempo io ancora con Marco ringrazio veramente le centinaia e centinaia di persone che in questi giorni hanno mandato la foto dello scontrino del 990 del 91590 perché queste sono state due vincite veramente interessanti che hanno seppellito tutte le altre vincite e allora signori attenzione perché partiamo partiamo con il piede giusto in questo martedì per la prima estrazione della settimana e qua già tante persone hanno proprio voluto dimostrare il grande affetto che hanno proprio nel seguire Lio e Marco perché parliamoci chiaro questo 990 è stato un ambo che tutta l'Italia ha vinto in quanto è uno dei nostri ambi principali regalato in diretta anche più volte non solo 990 ma fantastico anche il 91590 91590 un terno secco alla ruota nazionale beh assolutamente fa la differenza ma vado in redazione perché c'è già pronto un nuovo 90 estremamente importante lo troverete appunto nel primo portale e allora seguitemi di là in redazione grazie veramente grazie di questi scontrini vedete che sono proprio i vostri scontrini con i nostri consigli per cui le vostre vincite sono proprio quelli originali perché avete visto anche molti scontrini anche con la tra virgolette cacchetta porta fortuna ed è assolutamente importante perché è anche bello avere questo filo diretto tra noi e voi e voi ovviamente mandate appunto quello che riuscite a vincere ma questo 91590 è stato un terno col 990 anche questo ruota nazionale fantastico e comunque il 1590 dato in diversi modi come il 990 quindi grazie per questi scontrini che sono veramente tantissimi ma Marco andiamo a vedere i meravigliosi tre terni secchi non a quattro numeri tre terni secchi che noi abbiamo centrato in questo 2019 allora attenzione perché il 97790 nell'estrazione del 28 di febbraio lo avevamo centrato sempre alla ruota nazionale e sempre con il 990 vedete 97790 andiamo al 98990 siamo all'ultima estrazione del mese di gennaio e questo 98990 sempre con il 990 assolutamente lo abbiamo centrato a tutte uscendo a Cagliari ma è un terno secco e poi il 91590 che è arrivato proprio alla ruota nazionale beh il 990 ha già toccato ben tre ruote in questo 2019 ed è fantastica la frequenza di questo 990 ma attenzione perché l'89349494 oltre allo splendido 90 che vi darà la possibilità di averlo vi permette di avere dai sistemi di Rio e di Marco il prodotto dell'ambuguale 2872 sapete che è la data di Marco attenzione perché abbiamo due ambi secchi estremamente importante a Firenze Milano e questi due ambi secchi saranno ovviamente validi in ambo secco ma si potranno anche abbinare al 90 il 1661 fantastico ambo vertibile di distanza 45 conferma solo alla ruota dell'otto di Milano un ambo secco e un terno secco attenzione perché è veramente importante l'ambo secco e dovete valutarlo se vorrete anche con un euro in più tanto e solo alla ruota dell'otto di Milano e poi signori attenzione perché io con Marco abbiamo valutato un'informazione per tutti assolutamente per tutti coloro che hanno vinto il 990 sabato che hanno vinto il 915 90 sabato la ruota nazionale c'è un solo abbinamento per il 990 e allora attenzione perché questo unico abbinamento lo troverete all'89 34 94 94 ripeto 89 34 94 94 1 euro e 50 al minuto da rete fissa 1 euro e 80 al minuto dai cellulari allora signori attenzione perché guardate che questo abbinamento vedete solo un abbinamento per il 990 è un po' come quel 15 che era l'abbinamento del 990 è un po' come il 77 che era l'abbinamento del 990 e allora attenzione perché avrete veramente questa possibilità imperdibile non aspettate entrate subito in questo portale perché ora della fine oggi siamo in piena giornata d'estrazione ed è veramente importante dopo tutto quello che è arrivato aggiornare i numeri proprio per iniziare una settimana importante da quest'oggi e allora io dico via con le vostre chiamate è chiaro che entrando in questo portale voi sempre potrete chiudere la chiamata quando avrete ascoltato l'ambo alterno che vi interessa io vi lascio telefonare da rete fissa e dai cellulari non perdete questa importantissima opportunità non perdete questa è un po' come il momento è davvero a tutti i giorni che si tratta di cittadini Grazie a tutti. 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 per avere tutti.